Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Martina, trader da 2015 e trading coach della community degli Ichimokers. Come sempre ragazzi, ci tengo a precisarlo perché poi mi arrivano tantissime domande in privato, direttamente sotto i video di YouTube, che tutti i link utili io li metto qua sotto, compresi la community e tutto quello di cui parliamo nei video, compreso questo. Oggi infatti sono qua con un nuovo video, un video importantissimo che avrei voluto vedere all'inizio della mia carriera perché mi avrebbe evitato veramente tantissimi tantissimi errori. Quello che andremo a vedere oggi è il motivo per cui il 99% dei trader fallisce, o meglio, per cui dei trader che falliscono il 99% lo fa ed è a causa di quello che vedremo oggi. E' il motivo delle montagne russe nel periodo iniziale di apprendimento della maggior parte dei trader e, diciamo, la cosa che meno viene trattata ma che assolutamente fa la differenza fra un trading profittevole e un trading non profittevole. Indipendentemente dalla strategia, dall'approccio, dal time frame e la regola base, la regola numero uno del trading, un vero e proprio sacro graal, perché sì, se proprio proprio dovessimo attribuire il sacro graal a qualcosa, ecco, lo attribuirei a ciò che andremo a vedere oggi. E come detto prima, sto facendo un video che è il video in cui mi sarei voluta imbattere io per la prima volta appena approcciata al trading, magari non proprio il primo primo, ma insomma, quando ho iniziato un po' a bazzicare e applicare quello che imparavo, ecco sì, avrei voluto trovare questo video perché ha svoltato il mio trading. Di che cosa sto parlando? Sto parlando di come gestire il proprio rischio, di come capire quale size aprire, di come capire appunto come gestire il nostro conto per avere una giusta gestione del rischio e fare in modo che uno o due stop loss non intacchino effettivamente il nostro conto ma che siano semplicemente ritracciamenti della nostra equity. Come fare a preservare i nostri soldi, come evitare di bruciarci, quindi oggi vi farò vedere quello che è il tool che deve essere utilizzato prima di ogni entrata a mercato e soprattutto andrò a sradicare quelle che sono delle credenze popolari che purtroppo sono sbagliate e fanno sì che il trader la lunga si bruci. Quindi spostiamoci direttamente sui nostri grafici, andiamo a vedere ciò di cui sto parlando, ma prima se questi video vi piacciono ragazzi vi prego lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate, attivate la campanellina delle notifiche, aiutatemi con l'algoritmo di YouTube a far vedere appunto i video a più persone possibili, soprattutto questo video che è di un'importanza fondamentale e che deve essere alla base del trading di ognuno di noi. Soprattutto un video come questo che deve arrivare ad ogni trader, soprattutto neofita, prima di fare danni con il proprio conto. Andiamo quindi subito a vedere come muoverci, vi farò vedere qualche trucco, vi farò vedere un po' di cosine e vi darò qualche tool molto interessante e utile per andare a calcolare le size corrette. Allora andiamo subito a fare tre esempi, quindi poniamoci subito davanti ad una situazione abbastanza reale che è quella di dover aprire tre operazioni. Soprattutto per chi inizia c'è questa credenza non totalmente corretta del fatto che si possano aprire lottaggi fissi. Questa a volte è una credenza, quindi si è proprio sicuri di questa cosa, si è certi per delle motivazioni, altre volte invece l'aprire lottaggi fissi deriva dal fatto di non sapere effettivamente quanto bisogna aprire di una determinata operazione. E ci sta, perché non è comunque una cosa che ci insegnano, è una cosa che poi si inizia a capire col tempo. Quindi, che cos'è importante? Prima di tutto, è importante avere, rispetto al nostro conto, diciamo di avere un conto da 100.000 euro. E parto subito con cifre grandi perché voglio farvi vedere delle cose che magari per chi inizia con pochi euro non si rende conto, ma che poi se effettivamente uno arriverà a tradare certe cifre sarà importante capire. Noi di questa cifra dobbiamo subito dirci qual è il mio rischio fisso. Il rischio fisso è nient'altro che una percentuale che noi andremo ad utilizzare come rischio per ogni singola operazione. Si consiglia di variare tra il 0.25 e il 2% di rischio massimo, non variare per ogni operazione. Si sceglie la percentuale e questa deve poi essere utilizzata per ogni singola operazione. Quindi diciamo che io ho 100.000 euro di conto, voglio rischiare l'1%, ok? Quindi 1% di rischio. Questo rischio lo andrò ad utilizzare per ogni singola operazione. Chiaramente, avendo noi una percentuale di rischio, avendo noi delle coppie o cross diversi tra loro e dei pips di stop diversi tra loro, andrò ogni volta ad avere un lottaggio diverso. Per far sì che quando noi perdiamo, però, perdiamo sempre la stessa cifra. Quindi il lottaggio diverso non indica cifre poi diverse. Indica semplicemente che dobbiamo andare ad applicare questo 1% su coppie e cross diversi, che quindi avranno delle caratteristiche diverse, soprattutto a livello di cambio con la valuta del nostro conto. Ma anche i pips influiranno molto. A noi non interessa la cifra fissa a livello di lottaggio, non interessa che se perdiamo, perdiamo sempre la stessa cifra. Cosa che noi non riusciremmo a fare con un lottaggio fisso. È impossibile. Se noi apriamo sempre 5 lotti, una volta perderemo 1000, una volta 850, l'altra volta 1300. Capite che non può funzionare così, perché ogni perdita avrà un valore diverso. Perdita 1, perdita 2, magari perdita 3. Però la stessa cosa succederà per i guadagni. Magari questo sarà il guadagno 1, magari questo sarà il guadagno 2. Invece noi dobbiamo avere perdite uguali e guadagni proporzionati alle perdite. Quindi 1 a 2 di guadagno, 1 a 3 di guadagno e via così. Cosa che noi riusciamo a fare sulla nostra equity solo se abbiamo effettivamente un rischio fisso. E quindi per ogni operazione andiamo a rischiare una cifra specifica, sempre, sarà sempre lei. I rischi di utilizzare i lottaggi fissi sono appunto il fatto di A, come già detto, avere perdite diverse. Ma B, quando magari siamo in periodi di drawdown e iniziamo a recuperare, può essere che con i lottaggi fissi il recupero effettivo non ci sarà. Quindi sembrerà che la strategia non funzioni. In realtà non funzionare è la nostra gestione del rischio. Perché tassativo è importantissimo, regola d'oro, percentuale, fissa per ogni operazione. Ok? A questo punto abbiamo capito questa cosa. Prendetela come regola veramente da tatuarsi in fronte o appendersi mille posti sul muro. La domanda seguente sarà subito ok. Ma quindi, cioè, come faccio io? Esistono dei tool che ci facilitano la vita. Uno fra tanti, che io utilizzo per esempio, è My Forest Calculator. My Forest Calculator, di cui poi vi metto il link qua sotto, in descrizione, è un tool che ci permette, a seconda della valuta, a seconda dei pips di stop del nostro conto, di andare ad aprire sempre lottaggi diversi che però rispecchino la stessa cifra di rischio. Ok? Quindi facciamo subito un esempio. Così vi faccio vedere come, tra queste tre operazioni che sembrano molto simili, operazioni dove, tra l'altro, vogliamo vedere ritest e poi long, ritest, long, ritest, long. Ok? Magari di primo impatto si può pensare, ma sì, apro due lotte ognuna. No, vi farò vedere come fra di loro ci saranno dei lottaggi diversi. E faranno sì, questi lottaggi diversi, di avere però sempre la stessa percentuale di rischio, e quindi cifra di rischio. Quindi cominciamo con euro-dollaro. Currency pair. Qua dobbiamo andare a mettere la valuta che stiamo tradando, quindi euro-dollaro. Facilissimo. Account currency. Anzi, questa è la valuta del nostro conto. E immagino che molti di noi avranno il conto in euro. Ok? Account size. Abbiamo detto 100.000 euro. Perfetto. Rischio. 1%. Fisso. Qua iniziano a variare le cose, quindi questa varia. Questo resta fisso, questo resta fisso, questo resta fisso. Quello che varierà in questo tool sono currency pair e stop loss, pips di stop loss, che chiaramente andranno a dare risultati diversi, ma non a livello monetario. In questo caso euro-dollaro ci mostra 287 punti di stop, che sono 28,7 pips. Quindi 28,7, calcola, ci fa aprire 3 lotti, virgola 57. Andiamo a segnarcelo, 3 virgola 57 lotti. Ok. Poi, dollaro franco svizzero, quindi andiamo a cambiare currency pair, che diventa USD, CHF. Account currency mi raccomando sempre che sia euro, altrimenti il cambio sarà non corretto e vi verranno delle cifre leggermente diverse fuori. 100.000 resta uguale, 1% resta uguale. Andiamo a vedere i pips di stop. 208 punti, che sono 20,8 pips. Quindi 20, punto, 8. Ok. Prima eravamo a 3,46. Qua passiamo a 4,78, però vedete che la cifra è sempre la stessa. Quindi 4,78, facciamo un copio e incolla. 4,78. Infine, ultimo esempio, dollaro australiano yen, sempre euro. Account size uguale, rischio uguale. Pips di stop. Qua abbiamo 602 punti, che sono 60,2 pips. 60,2. Che ci dà 2,32 lotti. Ok. Quindi 2,32. Vedete come i lottaggi sono diversi. Qua abbiamo più del doppio di questa. Cosa stiamo rischiando di più? No. Assolutamente no. Perché a seconda di dove noi abbiamo posizionato il nostro stop loss, la perdita sarà uguale. Quindi che cosa succede? Se noi prendiamo uno stop loss, due stop loss e tre stop loss, noi andremo a perdere. Meno 1%, meno 1% e meno 1% per un totale di un meno 3%. Noi sappiamo già in anticipo quanto è il nostro rischio e cosa succede se le operazioni che noi andiamo ad aprire andranno in stop. Questa sarà la percentuale totale di perdita, indipendentemente da i lottaggi aperti. Al contrario, se noi avessimo aperto per dire sempre tre lotti, tre lotti e tre lotti, qua avremmo perso di meno. Quindi magari perdevamo lo 0,8% invece dell'1. Qua molto di meno, qua magari perdevamo lo 0,6. Adesso non so facendo i calcoli precisi, ovviamente. Qua invece perdevamo di più, magari perdevamo l'1.3. Alla fine ci ritroviamo con una perdita non del 3, leggermente minore, ma abbastanza simile al 3 in realtà. Quindi in questo caso la differenza negli stop loss è minima, ma la grande differenza avverrebbe nei target. Perché se è vero che facendo appunto meno 1, meno 1, meno 1, facciamo meno 3, E' anche vero che noi, sapendo quelli che sono i nostri rischi di rendimento, sappiamo che se qua andiamo a target ci portiamo un 3,05. Qua un 4,65 e qua un 1,47. Andando ad aprire dei lottaggi fissi, il tutto cambia. Non soltanto andremo ad avere delle perdite sproporzionate, ora in questo esempio le perdite tutto sommato erano lì, ma dei guadagni sproporzionati. Se andiamo a perdere, ad aggiungere un pochettino di più per un 1, Immaginate per un 4,65, quel minimo va moltiplicato per 4,65 volte e va veramente a fare una grande differenza nel nostro trading. Perché prendo appunto, che ne so, due lotti, o in questo caso sempre tre, qua andremo a guadagnare, sia a perdere meno, ma andremo a guadagnare molto meno. Andremo a guadagnare 1,78 lotti di percentuale, quindi applicato al nostro guadagno in meno, per 4,65 volte. Un guadagno che sarà molto meno di quello che dovremmo avere. E questa cosa farà sì che alla lunga le nostre equidi saranno tutte quante strane, tutte storte, non rispetteranno la realtà di ciò che una strategia effettivamente ci dà come possibile guadagno. Ok? Quindi è importantissimo, ragazzi, abbiate una perdita fissa del vostro capitale. Può essere una perdita applicata al capitale balance, quindi iniziale, depositato, o del capitale effettivamente anche compound, quindi se guadagnate mille poi applicate il rischio a 101.000 e via così, questa è una vostra scelta, ma abbiate una percentuale fissa. Sempre, non lotti, non altro. Percentuale. Perché voi dovete fare in modo che sia questa, che sia questa, che sia questa, voi non ve ne frega niente, vi devono far perdere tutta la stessa cifra in caso di perdita e guadagnare tutta la cifra che già vi era stata promessa all'inizio. Non di più, non di meno, non dovete aver sorprese sulla MetaTrader quando poi vedete la perdita. Voi sapete già prima quanto sarà la vostra perdita, ma questa cosa è possibile soltanto grazie ad una percentuale di rischio fissa e grazie a tool come questo che vi semplificano la vita e in due secondi vi danno il calcolo dei lottaggi, quindi della size di andare ad aprire. In questo caso io ho parlato di lottaggi, vi danno anche le unità, quindi in caso di broker inglesi e non usate la MetaTrader per aprire le operazioni, avete le unità proprio precise, precise, precise. Però ragazzi mi raccomando, anche qua non unità fisse, non è che dite sempre 200.000, no, devono essere percentuali. Questa è la regola d'oro del trading, questa è la regola d'oro per poter essere dei trader profittevoli nel lungo periodo. Mi rendo conto che non è una cosa scontata, io per prima ci ho messo un po' di tempo all'inizio per capirlo, non sapevo come poter fare, quindi agli inizi della mia carriera io aprivo dei lottaggi fissi che mi rendevano il mio trading ingestibile perché non sapevo mai quanto guadagnavo, con quanto andavo a target, quanto perdevo, mille cose che poi alla fine mi facevo dei bilanci e dicevo ok ma qua non capisco. Quando ho capito questa regola e l'ho attuata, mi sono resa conto di quanto effettivamente cambi totalmente la visione e la gestione del proprio trading. Quindi questo è il modo per calcolare le size, è il modo corretto. Io sapete non ci sono nessun video sul mio canale, vi dico che è una cosa sbagliata, è una cosa giusta perché è tutto molto soggettivo ma questa ragazzi è la cosa giusta da fare. Poi potete avere delle percentuali di rischio più alte o più basse o potete avere magari delle percentuali di rischio diverse se avete un backtesting che vi dice che potete farlo. Ma qua passiamo ad un altro discorso un po' più specifico che comunque richiede più tempo in questa attività. Ma per chi inizia o comunque per chi bazzica da un po' in questo mondo è importante iniziare ad avere delle percentuali fisse perché soltanto da lì vi renderete conto se il vostro trading sta funzionando o non sta funzionando e poi da lì inizieranno mille lavori, studi, approfondimenti ma se non c'è questo alla base non riuscirete mai ad avere un trading profittevole o comunque un trading gestibile di cui capite effettivamente i dati e capite la direzione che questo sta prendendo. Detto questo io spero che questo video vi sia piaciuto fatemelo sapere con un like, un commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche così rimanete sempre aggiornati su tutti i nuovi video e noi ci vediamo in un prossimo video.